È stata una domenica dir poco febbrile, quella appena trascorsa anche per tutta la macchina organizzativa del Carnavale di Sciacca edizione 2020, quella che è stata affermata di fronte alla tragedia di venerdì sera che ha tolto la vita al piccolo Salvatore Sclafani. La Futuris, la società che ha ricevuto dal Comune in affidamento all'organizzazione della manifestazione, è intervenuta nella mattinata di ieri con un comunicato stampa per manifestare il più profondo sentimento di cordoglio alla famiglia del bambino, ricordando come il Carnavale sia un inno alla gioia di vivere, alla socialità, alla condivisione dell'allegria. Salvatore, si legge nella nota ufficiale della Futuris, partecipava al Carnavale per questo. Una tragedia che naturalmente ha stravolto l'ordine delle cose. La Futuris, che per organizzare la festa ha stipulato decine e decine di contratti con sponsor, artisti, venditori ambulanti e fornitori di servizi, assumendo impegni economici non indifferenti, ha preso atto della decisione del questore di egrigento Rosa Maria Iraci di annullare la manifestazione. Decisione che, come noto, è stata motivata dai timori da parte dell'autorità di pubblica sicurezza riguardanti la tenuta dell'ordine pubblico. A questo proposito, considera doveroso la Futuris far sapere di aver organizzato una manifestazione che aveva ricevuto tutte le autorizzazioni di sicurezza necessarie dagli organi preposti. Ma come stabilisce nero su bianco il contratto di affidamento stipulato col Comune, in caso di annullamento della festa scaturito da cause di forza maggiore, la Futuris ha l'obbligo, previo accordo con l'amministrazione, di rinviare la manifestazione alla prima data utile, compatibilmente con lo svolgimento di altre manifestazioni. Da qui dunque la richiesta di ottenere il via libera a far riprendere le sfilate già per questo fine settimana e per i primi giorni della prossima. Il Comune non ha niente in contrario, ma a questo punto, come ormai di tutta evidenza, dovranno essere ancora una volta questore prefetto a dire sì o no a questa richiesta o eventualmente ad autorizzare solo le sfilate dei gruppi e non anche quelle dei carri, oppure ancora non autorizzare nulla. Al momento insomma non c'è nulla di definito, in ogni caso è innegabile che la vicenda adesso presenti criticità di tipo diverso e quella della sicurezza della sfilata è solo una delle predette criticità. Continuano in ogni dove infatti gli annullamenti di manifestazione che prevedono assembramenti scaturite dall'emergenza nazionale del coronavirus, ma va da sé che in attesa della decisione del questore in ordine alle richieste avanzate, la Futuris ha fatto sapere che saranno diffuse al pubblico le modalità per rendere validi ticket per le nuove date della manifestazione o per l'eventuale rimborso. I componenti dell'associazione Futuris colgono l'occasione anche per ringraziare per le attestazioni di vicinanza che sono pervenute da tutti i carnavali italiani, dimostrando un sentimento comune di partecipazione al dolore.